Sette consigli per scoprire se una persona ti ama. Allora, è importante cercare di capire se una persona ci ama, non avere l'effettivo di prosciutto sugli occhi, perché dobbiamo imparare a osservare i comportamenti. Soltanto dall'osservazione dei comportamenti possiamo capire se una persona è veramente innamorata di noi e se ci dà quello che desideriamo. Quindi ci sono tutta una serie di segnali che noi dobbiamo osservare per capire se una persona ci ama. Il primo è che desidera passare il suo tempo con noi. Un segnale importante per capire se ti ama è vedere se qualcuno vuol dedicare del tempo solo a te, se sei prioritario. Certo che se viene all'ultimo posto delle sue priorità, non si può dire che ti ami. Secondo punto è si preoccupa per te. Il tuo partner si preoccupa se c'è qualcosa che non va. Insomma, l'amore è fatto anche di praticità, non soltanto di emotività. Terzo punto, ha fiducia nei tuoi confronti. Qualsiasi che persona ti ami ti offrirà sempre la fiducia. Non cercherà di andare alla prima cosa di additarti come una persona. Cioè in linea di principio, fino a prova contraria, ti dà fiducia. Altro punto, ti offre il suo aiuto. Se per caso hai bisogno di aiuto, il tuo partner è disposto ad aiutarti. Vuol dire che ti ama, vuol dire che siete fatti, diciamo, per stare assieme. Il fatto che ti tenda la mano e che è disposto ad aiutarti è sicuramente una chiara dimostrazione di amore, di rispetto nei tuoi confronti. Altro punto, rispetta le tue opinioni. Se il tuo partner ti ama, sicuramente non ti disperzerà, ma ti valorizzerà e cercherà di, in qualche modo, rispettare le tue opinioni. Anche se magari sono contrarie alle sue, sono diverse, però le rispetterà. Perché questo è una condizione. Altro punto, ti include nei suoi progetti, ti tiene in considerazione prima di prendere una decisione, soprattutto le decisioni importanti, non le prende da sole, ma tiene presente che anche tu sei, diciamo, parte della sua vita e quindi sei la sua famiglia. Questo è fondamentale. E poi ci sono dimostrazioni fisiche d'affetto, che non sono soltanto sessuali, ma sono i baci, gli abbracci, lo sfiorarsi, piccoli gesti impercettibili che per ora rappresentano una dimostrazione di vicinanza ed amore. Non guardare con affetto una persona. Ecco, questi sono tutti i segnali che ti ama. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok, ovviamente su tutti i miei canali YouTube, Massimo Tramasco, crescita personale, crescita bene, essere molto stimolo, il nuovissimo esoterismo e spiritualità con Massimo Tramasco.